Buonasera a tutti e benvenuti a questo concerto del Corpo Musicale di Solisole che conclude innanzitutto i festeggiamenti in onore del patrono San Pietro e peraltro è parte degli eventi per il novantesimo anno di fondazione proprio della nostra banda. Prima di iniziare però voglio fare una piccola premessa. Sarà un concerto diverso dal solito. Questa sera il Corpo Musicale vuole ripercorrere con voi il cammino intrapreso nel lontano 1927 e che continua ancora oggi, riproponendo alcuni tra i brani che hanno fatto la nostra storia. Ma i musicanti non si limiteranno a raccontare il loro passato. Questa sera vogliono raccontare anche la storia della musica per banda in Italia. Dai primi brani proposti per questa specifica formazione musicale fino a quelli più recenti. Senza ulteriori indugi chiamiamo i nostri musicisti per cui un applauso al Corpo Musicale di Solisole. Grazie. 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 Iniziamo quindi con il primo brano del Corpo Musicale di Solisole, la marcia sinfonica dolorea. Come già detto prima, facciamo un salto indietro nel tempo. La banda in Italia nasce molto tardi rispetto ad altri paesi e verso gli anni venti si creano le prime formazioni. Considerata di seconda categoria rispetto alle grandi orchestre di professionisti, gli unici originali scritti per la banda erano solo marce. Anche nei primi concerti della nostra banda i brani maggiormente eseguiti erano in effetti marce. Per questo motivo il Corpo Musicale di Solisole è lieto di proporvi la marcia sinfonica Dorotea di Vincenzo Borgia e ovviamente chiamiamo a dirigere il maestro Oscar Locatelli. A voi, a voi, a voi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 che. a tutti. 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 a tutti.